Che ci fa la plastica nell'umido? Boh, mistero. Io questa cosa non la capisco. Eh, ecco, invece nella plastica che ci sta? Mela! Eh, beh, certo, mela nella plastica, eh, certo. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Ma che c'hai? Non posso vivere così. Non posso vivere così. Ma così come? Ma che stiamo a fare insieme? Oddio. Ma perché mi dice così? Avevamo parlato di fare un figlio e dopo una settimana tutto mi sei andato da solo a cercare la tua autonomia. Hai dato l'ennesimo dolore, capito? Perché non hai parlato invece di tenerti dentro tutto quanto, no? Di fingere che andava tutto bene? Ma io cercavo di rispettare te. Io non ti volevo mica invadere come qua e che sono venuta a stare da te. Sei diventata una cosa di... Sei un pezzo di ghiaccio.